Allora, abbiamo visto l'epica di questo ragazzo ribelle. Lei però, la sua mamma, li è sempre rimasta accanto tutto questo tempo. Forse è l'unica che li è sempre rimasta accanto, senza se e senza ma, no? Anche quando era arrabbiata con lui. Ciao Gabriella, benvenuta. Sono contenta di averti qui. Grazie. Forse lui è stato più arrabbiato con me, come ti ho sempre detto. Magari si aspettava che lo facessi uscire dal carcere dopo due giorni, invece, passati due anni e mezzo. Ecco, però questa è una cosa molto interessante, perché è una delle cose a cui siamo partiti nella nostra conversazione per il libro, no, Gabriella? Cioè, in qualche modo Fabrizio ti ha sempre considerato come fossi un supereroe, una supermamma. Ha pensato che tu potessi risolvere tutti i problemi della sua vita. Anche perché c'è stato quel precedente, perché quando era lui molto piccolo e ha rischiato di morire per una malattia strana, tu hai avuto un'intuizione geniale, l'hai portato a Catania e l'hai salvato la vita. Quindi tu sei una madre che ha dato la vita sostanzialmente due volte. È stato questo l'imprinti che proprio Fabrizio ha sempre preteso così tanto da te nella sua vita, secondo te? Sì, te l'ho già detto, sono convinta che questa sua interpretazione della maternità sia dovuto a questo rapporto che abbiamo avuto così intenso, dato che io appunto gli ho salvato la vita e l'ho tenuto sempre come in una campana di vetro. Lui mi ha dato delle valenze di onnipotenza, cosa che poi nessuna mamma, sicuramente l'amore di una mamma è sempre enorme e travalica anche delle barriere che non si possono neanche superare. Ma in questo caso ho avuto il coraggio di stare vicino, di mettermi in passo anche ai media e tutto, pur di poter sposare una causa, non perché l'ho mai difeso, come tu sai. Io non ho mai difeso mio figlio perché lui mi ha fatti tanti errori, si è comportato male, però sicuramente la pena che gli hanno dato è stata una cosa esagerata. Però questa è una delle lamenti che fa Fabrizio, no? Cioè Fabrizio voleva che tu lo difendessi senza sé e senza mamma, invece tu hai deciso da madre, li distingue fra i suoi errori e quella che tu considerai un'ingiustizia. Sì, non da madre ma anche da cittadina, da persona morale, tra virgolette. Perché non è che se tuo figlio sbaglia lo devi ammettere. Senti, vediamo qualche fotografia. Tu e Fabrizio, guarda come lo guardi. Voglio vedere le foto di Fabrizio da bambino se ce li abbiamo, perché voglio fargliele vedere. Perché lei mi dice sempre che Fabrizio era bellissimo, dolcissimo, buonissimo. Che tu ancora sogni dentro di te che lui ritorni un po' quel bambino? Beh io no, che torni bambino assolutamente no. Ma quella dolcezza sogni, no? Diciamo che torni con un senso di responsabilità che ancora non tanto intravedo nei confronti un po' della vita. Cioè non ce la fa fare il bravo ragazzo Fabrizio? No, non è che non è un bravo ragazzo, diciamo che la sua vita è un po' così, è sempre, lo devo andare, lo devo inseguire, lo devo inseguire. Attorno a te Fabrizio è stata una sorta di reality show, no? Perché ci sono state tutte queste donne bellissime, Nina Morici, poi Belen, con appunto foto sui giornali, grandi show. Tra l'altro tu hai avuto, insomma, hai un nipotino, perché Fabrizio ha avuto a Nina Morici un ragazzino, Carlos, che ha 14 anni. No, 13. 13, ecco, di cui ti occupi tu praticamente? No, vabbè, ci sono anche i suoi genitori. Ma fai molto bene la nonna, ecco, diciamo. Diciamo che faccio la nonna come tutte le nonne, ecco. Ecco, ma secondo te, cosa è che non abbiamo capito dall'esterno del rapporto di Fabrizio con le donne? Cioè perché sempre questa vita così tumultuosa, perché non è riuscito a fermarsi? Sono loro che non l'hanno capito, non hanno colto quell'aspetto che tu dici esiste in Fabrizio invece di fragilità, di dolcezza. O invece è lui che non si fa scoprire, perché è respingente? No, lui non è assolutamente respingente, secondo me. Lui deve trovare un equilibrio dentro di sé che ancora, secondo me, non ha trovato. Un equilibrio psicologico, non parlo delle trasgressioni, proprio un suo modo di stare bene con se stesso. Quando riuscirà a trovare questo equilibrio, sicuramente troverà la donna della sua vita. Senti, Fabrizio è stato in carcere alla bellezza di 22 mesi, nel carcere di opera, tra l'altro che è un carcere difficilissimo. Ci sono quelli imputati di 41 bis, condannati a 41 bis. Quindi è un carcere, tu mi hai raccontato, anche quando entravi in questo carcere, l'impressione che faceva una persona come te, che mai se lo sarebbe aspettato, dover entrare in quel mondo, in quell'ambiente. Alla fine di questa terribile esperienza, che ti ha ovviamente addolorato e provato, secondo te quel carcere a Fabrizio li è servito in qualche modo? Sì. Li ha fatto da padre in questa fase della sua vita? Diciamo che l'ha fermato, l'ha bloccato in un momento in cui sarebbe precipitato nel baratro più totale. Io penso che poteva anche morire con la vita che faceva. Invece il carcere l'ha fermato. Però il carcere, quello che ha fatto, lo continuo a dire, è stato sufficiente, perché gli anni che gli hanno dato sono una follia. Senti, secondo te bisogna affermarlo prima, perché tu non ci sei riuscita, tuo marito non ci è riuscito? Cosa ti rimproveri tu da male? Dio me lo sono tanto chiesto questo. Io te l'ho detto cosa mi rimprovero di non essere stata mai severa con i miei figli. Anche mio marito era come me, estremamente accondiscendente. Non hai fatto come Toglia Gramma, la mamma da cui siamo partite. No. Possiamo vedere un attimo questa clip di Toglia, così la commentiamo con Gabriella? Grazie a tutti. A me mi ha fatto molto riflettere da mamma questa scena, perché ho pensato che io non sarei stata capace probabilmente di fare una cosa del genere. Tu? Neanche, assolutamente. Perché io ho sempre avuto in fondo un gran rispetto per i miei figli e quindi anche... Le loro scelte. Le ho lasciati liberi nelle loro scelte. anche quando sapevo che sbagliavano, fino a un certo punto mi sono permessa di dire la mia, perché poi alla fine ognuno è libero nella vita di fare ciò che vuole e quindi non è che una madre può obbligare un figlio a fare scelte che non sono le sue. Io credo che questo mio comportamento sia nato anche da questo bisogno di rispettarli molti miei figli. Allora, io ti ringrazio molto per averci raccontato la tua storia, anche perché penso che fra noi madri mettere in comune poi le storie, anche appunto gli errori, le debolezze, sia qualcosa che in qualche modo ci aiuta tutte a diventare migliori e più forti. Ti faccio il mio gruppo per te e per Fabrizio. Grazie mille. Andiamo in pubblicità.